Le due belle ragazze sedute ai lati della sala del Centrum Palace di Campobasso, vestite con gli splendidi costumi nuziali di Cerce Maggiore e Frosolone, riassumono molto bene quello che le proloco rappresentano per il territorio, la tutela e la valorizzazione di ciò che sta più a cuore ai cittadini, sia dei piccoli comuni che di quelli più grandi. Sagre, enogastronomiche, feste patronali, concerti estivi, manifestazioni di ogni tipo, spesso non avrebbero nemmeno luogo se non esistessero le proloco che si fanno carico dell'organizzazione degli eventi. E la sala grimita, soprattutto da giovani, per l'assemblea regionale delle proloco al Centrum Palace di Campobasso, testimonia che sono proprio loro che si danno più da fare per non far morire le tradizioni del loro paese. Un momento di incontro e di confronto tra loro e con il presidente nazionale La Spina e con quello regionale Di Paolo. E noi negli ultimi anni abbiamo lavorato tanto in questo per la promozione dei nostri territori ed è anche grazie alle proloco che i prodotti tipici locali, i beni culturali, i beni paesaggistici vengono rivalutati e vengono messi in evidenza, tutto a favore del piccolo borgo, rendendoli molto più vivibili e molto più belli e diciamo confortevoli ed accoglienti, accoglienti anche perché noi facciamo anche una grande opera di accoglienza. Il presidente nazionale è intervenuto all'assemblea Campobasso non solo per incontrare e conoscere i tanti volontari e referenti locali, ma anche per spiegare le importanti novità del terzo settore in cui le proloco confluiscono. Nuove normative, le nuove attività che devono essere svolte affinché si regolarizzi un po' il tutto attraverso la riforma del terzo settore, questa importante norma che sta vedendo tutto il mondo no profit impegnato in questa trasformazione, in questo che è una sorta di messa a sistema del mondo del volontariato. Sono elementi che servono per lavorare meglio, che servono per essere più partecipi nella vita amministrativa di ogni comune e che danno nuove opportunità alle proloco e soprattutto danno nuove opportunità nei confronti con la pubblica amministrazione nella raccolta fondi, nelle attività di gestione di siti culturali.